Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un argomento abbastanza frequente che prima o poi, è solo questione di tempo, impatta su tutti noi. Mi riferisco all'obsolescenza, ossia i nostri dispositivi, computer fissi o portatili che siano, prima o poi sono da sostituire. Quindi ci troviamo a dover cambiare il computer. Perché si cambia un computer? Sostanzialmente, poi varie necessità, ma sostanzialmente per due motivi. Il primo è quello dell'obsolescenza, quindi il computer diventa vecchio, significa che diventa lento per gli standard attuali, diventa non più in grado di fare girare quegli applicativi che noi normalmente usiamo, magari funzionano ma vanno a scatti, sono lenti, quindi poco utilizzabili. O magari, cosa molto frequente, non è più possibile aggiornare il sistema operativo. Questo rende la macchina vecchia, obsoleta e non compliant con tutti i criteri di sicurezza informatica attuali. L'altro motivo per cui si va a sostituire un computer è perché si rompe banalmente. Si rompe significa che il computer non si accende più. Al mattino, quando noi premiamo il tasto, il computer non si accende. Oppure si accende ma abbiamo una schermata brutta, si è rotto il monitor, c'è scritto qualcosa che non riusciamo a capire e quindi il computer non è in grado di funzionare in modo ordinario. Una delle cause più frequenti, la cito solo questa perché ci tengo a dirvela, una delle cause più frequenti del mancato accensione della macchina è dovuta proprio alla incapacità dell'alimentatore di fornire energia elettrica. L'alimentatore è quello scatolotto all'interno del quale andate ad infilare il cavo di alimentazione. Tra l'altro ho fatto un video sulle componenti del pc, ve lo lascio qui in alto il link, andate a vederlo se siete interessati. E questo alimentatore può bruciarsi soprattutto se è un alimentatore economico che normalmente viene montato in molti case economici. Quindi è sufficiente andare a sostituire questo alimentatore con uno nuovo e parliamo di una spesa che va dai 30 ai 50 a 60 euro al massimo per un computer normale, per computer da gaming o che hanno schede grafiche molto dimensionate, i prezzi potrebbero salire, ma per un computer normale con 50 euro si compra un nuovo alimentatore, anche meno, e questo alimentatore va a fare rinascere il vostro computer. Quindi prestate attenzione quando un tecnico vi dice il computer è da buttare perché molto probabilmente vista la casualità piuttosto frequente dell'alimentatore che non funziona è sufficiente sostituire questo. Magari lui lo fa perché poi vi vuole vendere una nuova macchina, sostituirà l'alimentatore nel vostro ed andrà a venderlo. Bene, detto questo abbiamo comprato il nostro nuovo computer, quindi lo installeremo, andremo a collegare tutti i cavi, andremo a sistemare le nostre icone sul desktop e insomma a sistemarcelo per il nostro lavoro. Domanda, cosa faccio con il computer vecchio? Questa è una bella domanda e purtroppo la risposta in molti casi è sbagliata. Mi è capitato molto spesso anche recentemente, da qui l'idea di fare questo video, di vedere il computer fuori sul marciapiede da parte all'indifferenziato perché probabilmente la società che ritira l'indifferenziato ritira anche questo tipo di, non nel mio paese ma in un'altra zona, ritira anche questo tipo di oggetti. A parte il metterlo sul marciapiede, portarlo nel cassonetto, darlo ad un negozio che ve lo ritira perché a molti negozi vi dicono ti ritiro l'usato e magari te lo pago in cambio dell'acquisto del computer nuovo. Dovete considerare che il vostro computer che supponiamo sia guasto quindi non funziona più e non è un problema di alimentatore, è proprio bruciato qualcosa di importante, che ne so la scheda madre, il microprocessore, si è rotta la ram, proprio un guasto incredibile. C'è un componente all'interno di tutti i computer che è molto molto resistente soprattutto quando non deve rompersi ed è questo. In questo caso vi faccio vedere, è un hard disk, ok? Un disco fisso, quindi andate sempre a vedere il video che vi ho lasciato prima. Su questo disco fisso, questo hard disk, ci sono tutti i vostri dati. Questa è l'unità C, quindi download, desktop, documenti, programmi, tutto quello che voi fate sul vostro computer è scritto su questa componente che ripeto è veramente robusta. Si rompe solo quando non deve farlo. Ora mettere, portare il vostro computer in una discarica e buttarlo nel cassonetto significa prendere questo contenitore che molto probabilmente è ancora integro perché tra l'altro anche quando questo dovesse rompersi, spesso e volentieri si rompono alcuni punti del disco mentre altre zone sono ancora recuperabili. Quindi voi andate a buttare nel cassonetto anche questo dispositivo, anche questa componente che se qualcuno trova può togliere ed andare a guardare cosa c'è su. Ora, cosa c'è su? Ci sono su le vostre fotografie, ci sono su i vostri documenti personali e molto probabilmente ci sono salvate la cronologia del vostro browser e se non avete impostato una password ma non è un problemone magari per qualcuno superarla c'è la possibilità di accedere ai vostri dati in cloud, quindi al vostro OneDrive, al vostro drive di Google, alla vostra cronologia degli spostamenti, possono sapere in tempo reale dove siete, mandare mail per vostro conto eccetera eccetera eccetera. Quindi il consiglio che vi voglio dare nel mese di agosto è proprio questo. Quando buttate un computer è assolutamente necessario innanzitutto backupare come abbiamo detto più volte i vostri dati affinché sia facile recuperarli sul computer nuovo che andate ad accendere. Quindi verificate prima di buttare il vecchio che anche se non funziona che il nuovo computer abbia tutto ciò che avevate su quello vecchio e che vi serve intendo dire quindi i vostri accessi ai vostri account, i documenti che avevate sul desktop se ne avevate eccetera. Dopodiché andiamo a considerare questo. Allora è vero che qualcuno mi dice io utilizzo i dati in cloud, uso OneDrive di Microsoft e ho tutti i miei dati online. Beh prestate attenzione perché se utilizzate come vi ho fatto vedere io ora l'agent di OneDrive ma può essere anche l'agent di Dropbox di qualsiasi altro servizio in cloud questo per fare un lavoro più efficiente nei vostri confronti. Si, tiene tutto nel cloud di Microsoft ma la cartella OneDrive è salvata localmente su questo disco quindi quando io vado a salvare una fotografia a modificare un documento lui prima lo modifica su questo disco ed è efficientissimo nel farlo. Poi tramite la rete dati va a fare la copia sui sistemi di Microsoft quindi qua dentro c'è in questo caso tutta la copia di OneDrive a meno che voi abbiate messo di lasciare a meno che voi abbiate messo di tenere i documenti solo conservabili online. Quindi che cosa fare? Allora potete fare più cose. Innanzitutto potete se possibile far partire il computer con un altro boot con un altro sistema e formattare a basso livello il disco se siete in grado di farlo. Se non siete in grado di farlo la cosa più semplice che potete fare è estrarre dal computer questo hard disk e distruggerlo. Attenzione io vi sto facendo vedere un hard disk ha stato un hard disk classico che sui nuovi computer non si utilizzano più si utilizzano dischi più piccoli a stato solido vi faccio vedere qui sopra un'immagine ma il concetto non cambia soprattutto nei portatili ovviamente non c'è dentro questo bestione ma c'è dentro un disco molto più piccolo anche in quel caso girate il portatile allentate le viti e da qualche parte lo trovate ed è sempre possibile toglierlo. Quindi in quel caso in quelli piccolini è molto semplice potete prendere una pinza una morsa e lo spezzate in due una volta rotto date di un paio di martellate e questo è sicuramente fuori uso poi lo potete buttare nell'indifferenziata. Mentre per questo qui diventa un po' più complesso perché il contenitore perché qui dentro ci sono i dischi che girano e la testina ma il contenitore è molto molto robusto e è difficile romperlo anche prendendolo a martellate. Quindi sicuramente se lo prendete a martellate andate a rompere la testina e il sistema di guida della testina quindi diventa molto più difficile recuperare i dati. Bisognerebbe che qualcuno particolarmente interessato vada ad aprire in una zona assolutamente asettica il disco, tirasse fuori i dischi, insomma un lavoro troppo certosino e troppo costoso che viene fatto solo per recuperare dati aziendali, trafugare dati importantissimi. Nel caso di un hard disk non viene fatto. Quindi potete fare due cose andate qui dove ci sono i connettori, spero si vedano, ok? Questi sono i connettori SATA che sono fatti per l'alimentazione elettrica, spero si veda, e per trasmettere i dati dal computer. Quindi con una pinza potete rompere questi connettori, qui si dovrebbero vedere meglio, ma vedo che la mia camera non mi assiste, ok? Prendete una pinza e potete rompere questi connettori di modo che il disco non può più essere collegato ad un computer. Assestategli un paio di martellate decise in modo da rompere la circuiteria che questa qui esterna può essere comunque rotta. Eventualmente se avete un trapano colonna potete perforarlo. La perforatura fatta con il trapano colonna è sicuramente un ottimo modo per distruggere il hard disk e i suoi dati. Mi raccomando, la stessa cosa vale anche per gli smartphone. Quando dismettete uno smartphone non prendetelo semplicemente e datelo via, perché molto probabilmente, anche se solo lo schermo è rotto, il telefono sta funzionando, quindi i dati ci sono sopra. Quindi se il telefono, il dispositivo è ancora utilizzabile, andate nelle impostazioni e fate un reset, un ripristino dei dati di fabbrica. Questo porta il dispositivo allo stato iniziale, quando è stato tolto dalla scatola, quindi non c'è su più nulla che vi appartiene. Oppure se il display non funziona e non siete sicuri che in realtà il telefono stia funzionando, anche qui è semplice, datevi due belle martellate a se state, spezzatelo, fate qualcosa, ma rendetelo inutilizzabile. Perché vi assicuro che i furti di dati e di documenti e poi la tracciatura degli spostamenti eccetera è qualcosa che avviene regolarmente. Dobbiamo essere noi i primi a tutelare la nostra sicurezza. Se il video ti è piaciuto mettimi un like, iscriviti al canale per non perdere i prossimi video, è un ottimo modo e non costa assolutamente nulla. Ci vediamo alla prossima, ciao!